Ad Angri il servizio di riscossione dei tributi sarà esternalizzato. Il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, spiega ai nostri microfoni i motivi per i quali l'amministrazione comunale da lui guidata formulerà questa proposta, precisando le criticità in materia e anche che la proposta non riguarderà però tutti i tributi. Stiamo lavorando dopo aver introdotto il settore entrate, già nella precedente amministrazione, proprio per garantire una maggiore continuità nella capacità di riscossione dell'ente, abbiamo valutato la necessità in virtù del fatto che c'è una forte carenza di personale dovuta, come ormai è noto a tutti, e vale per tutti i comuni, soprattutto nel sud Italia, sia per l'introduzione della quota 100, sia perché la maggior parte dei dipendenti del comune sono stati assunti con la legge 285 dell'82, quella subito dopo il sisma dell'80, quindi si è dato il caso che in pratica i pensionamenti sono stati quasi contemporanei, simultanei, per cui improvvisamente sono, veramente improvvisamente, cioè nell'arco di uno, due, tre anni sono andati via 60 persone. Sì, era tutto prevedibile, ma d'altro canto c'è da dire che è anche vero che non ci sono le condizioni finanziarie per i comuni e anche di natura, diciamo, amministrativa, soprattutto burocratica, dovuta ai lacci introdotti in questi anni, per le assunzioni. Mi spiego subito, noi, diciamo, in base a un arzigocolato calcolo, abbiamo la possibilità di assumere per una spesa di 34.900 euro, che non ha nulla a che vedere con le reali capacità finanziarie dell'ente. Quindi voglio chiarire questo aspetto perché è semplice dire sì, ma voi lo sapevate. Sì, lo sapevamo, ma non potevamo assumere per altri motivi legati appunto a queste disposizioni normative. E questo è un dato. L'altro dato è che c'è la necessità di incrementare ulteriormente la capacità di riscossione dell'ente. Se si fa un'analisi della condizione legata ai residui attivi, è ormai un fatto storico in questa città, ma in molti altri comuni, che c'è un'oggettiva difficoltà di riscossione dei crediti nei confronti di terzi che invante il Comune. E quindi questo impone una necessaria spinta in questa direzione, che allo stato attuale noi non possiamo garantire con il personale a disposizione. Motivo per il quale, al di là della capacità assunzionale, che spero si possa migliorare negli anni avverire, c'è la necessità e l'urgenza di lavorarci subito. E questo ci sta, diciamo, inducendo a valutare l'ipotesi di un bando di gara per affidare a un soggetto esterno la parte di riscossione non dell'ordinario, ma del pregresso, che è quello un po' più rilevante. Perché l'ordinario, insomma, in qualche modo si riesce ad andare avanti, ma le somme pregresse sono quelle più difficili da incassare. Ecco, almeno su quello, per evitare di ripetere un caso soggett, stiamo lavorando su un bando di gara che garantisca all'amministrazione la capacità di un soggetto che sia in grado di riscuotere queste somme e possono dare, appunto, alla città, poi alla fine, una prospettiva diversa per il futuro. Sindaco, al di là di questo dato tecnico, mi permetta una osservazione di tipo politico. Quando si parla di esternalizzazioni, si è sempre pronti al piede di guerra delle opposizioni e anche a quella dell'opinione pubblica. In realtà, diciamo, la proposta, l'idea, non è quella di esternalizzare il servizio di riscossione dei tributi, ma solo il servizio di riscossione di quella parte dei tributi che sono stati già accertati e che devono essere solo incassati. Quindi il lavoro continua ad essere fatto dall'ufficio, ma la riscossione soltanto di questi tributi accertati che restano solo da incassare e quindi va seguito direttamente non è la riscossione complessiva dei tributi, ma è soltanto la parte, chiamiamola, come la vogliamo definire, un po' coattiva e un po' quella lì, diciamo, già accertata, più per l'elusione e l'evasione complessiva che per la riscossione ordinaria. La riscossione ordinaria continua a farla gli uffici, quindi resterà in testa al Comune l'azione. Per quanto riguarda altre attività di accertamento, un'altra iniziativa dell'amministrazione comunale da lei guidata è quella di legarla e vincolarla un po' alla valutazione delle performance. Ci spieghi un po' meglio. Dunque, quando si parla di residui attivi, ma anche di residui passivi, sebbene la massa è quasi, diciamo, una terza parte, quando si parla di residui attivi, si parla di residui che risalgono agli anni precedenti, anche al 2000. E quindi, voglio dire, riscuotere una somma di 20 anni fa non è una cosa semplice. Anche se ci sono state le interruzioni dei termini e quant'altro, appunto, proprio per questo diventa una cosa più complicata da seguire che sottrae tempo agli uffici, diciamo, per la quotidianità, per l'ordinario. Però è anche vero che questa massa di crediti che il Comune vanta da terzi è una, diciamo, una palla a piede vera e propria per il bilancio dell'ente perché va a determinare un fondo che si chiama Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, che è un fondo, diciamo, fittizio, ma nel quale vanno vincolate somme a garanzia della futura riscossione di queste somme. E quindi questo ingessa molto la spesa, anzi, diciamo, la blocca totalmente e non dà la possibilità all'amministrazione di poter spendere per i servizi normalmente. Allora abbiamo pensato da quest'anno di legare il lavoro di riaccertamento dei residui progressi, dei residui attivi, agli obiettivi dell'amministrazione e questo andrà ad incidere sulle performance dei responsabili del settore. Cioè ciascuno dovrà prioritariamente, rispetto agli altri obiettivi, garantire il lavoro di riaccertamento dei residui sia per, diciamo, sfoltire il residuo per quelli che realmente sono incassabili, sono, diciamo, riscuotibili, e sia perché questo lavoro ci permette appunto di ridurre la massa di crediti attivi e quindi anche il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Cioè ci consente di avere una maggiore possibilità di spesa per garantire almeno i servizi essenziali in continuità e fare quello che l'amministrazione si è prefissata di fare.